è inutile che faccia l'elenco di nuovo, sappiamo chi ha collaborato a tutto quanto che è adesso possibile questa straordinaria mostra il mio amico Gianpola si è commosso e io con lui perché noi siamo stati molto vicini Igor è con noi, mi la voleva questa mostra, l'ha sognata e noi l'abbiamo fatto in maniera di realizzarla, non è stato semplice perché lavorare in un sito così delicato bisogna andarci proprio con un piede di più, con il massimo rispetto e con la grande collaborazione sia del ministero che del nostro sovrintendente qua che è stata una persona straordinaria che ci ha aiutato molto, ma soprattutto ha aiutato mia moglie che è stata la persona operativa per questa mostra